buongiorno cari amici mi chiamo taziana smirnova sono petrice acquarellista oggi volevo ripresentarvi il mio nuovo progetto online piazze vie calle e contrade nel secondo ciclo di cinque lezioni noi come sempre parliamo dei particolari della prospettiva ad esempio cosa si cambia quando la strada va in discesa oppure in salita come sempre parliamo della struttura della composizione come rendere la immagine più interessante ed espressiva ci saranno sempre tanti consigli pratici basati sulla mia esperienza di lavoro al premier ed insegnamento delle tecniche pittoriche e come sempre tutto il percorso della schizzo al dipinto facciamo insieme e spero di rendere i nostri incontri divertenti sarò molto felice di vedervi al mio corso grazie e Grazie a tutti. Grazie a tutti.